bentornato guti e bentornata continuiamo dove eravamo rimasti nella lezione precedente parlando del menu start ora andiamo a vedere il menu che si genera cliccando con il pulsante destro del mouse sul pulsante start qui una rappresentazione che sicuramente già ben conosci in quanto è praticamente identico a quello di windows 8.1 ci potranno essere anche delle minime differenze in base al dispositivo che utilizzi o l'edizione di windows ma di norma potrai trovare partendo dall'alto il pulsante programmi e funzionalità opzioni spegnimento visualizzatore eventi sistema gestione dispositivi connessioni di rete gestione disco gestione computer prompt dei comandi normali o come amministratore gestione attività pannello di controllo esplora file cerca esegui chiudi e disconnetti ed in ultimo desktop partendo dal primo programmi e funzionalità questo pulsante avvia la sezione che ti permette di disinstallare o modificare i programmi cliccando sopra il singolo programma potrà infatti avviare la procedura o di disinstallazione oppure modificarne parametri la seconda sezione opzioni spegnimento ti dà la possibilità di accedere alla personalizzazione del risparmio energetico del tuo dispositivo puoi ottenere le migliori prestazioni a scapito di un maggior consumo oppure degradarle risparmiando energia o ancora scegliere un equilibrio tra le due precedenti opzioni altra sezione visualizzatore eventi che ti permette di visionare la sezione dove vengono memorizzati tutti gli eventi che avvengono nel computer al sistema operativo o ai programmi installati utile in caso di ricerca guasti altra sezione sistema nella quale puoi trovare informazioni di base relative al pc come l'edizione del sistema operativo il tipo di processore che ha installato nel tuo computer quanta ram è presente il nome del computer gruppo di lavoro e lo stato di attivazione la sezione gestione dispositivi è dedicata ad interagire con l'hardware installato nel computer puoi rimuovere i driver aggiornarli visionare le proprietà delle periferiche oppure semplicemente disattivarle tramite connessioni di rete puoi vedere le connessioni disponibili per il tuo dispositivo ed interagire con le stesse puoi attivare e disattivare la connessione eseguire una diagnosi visionare le proprietà ed altre opzioni gestione disco è la sezione dedicata alla gestione delle partizioni dei dischi rigidi o delle periferiche di archiviazione del computer attenzione perché nella gestione puoi anche far danni se agissi con superficialità in quanto puoi ridimensionare eliminare formatare riluminare le partizioni ed altre opzioni la sezione gestione computer è una sezione molto corposa che ti permette una piena gestione del computer infatti potrai impostare delle pianificazioni visionare gli eventi le prestazioni hardware gestire le cartelle da condividere o gli utenti connessi al pc e gestire anche le unità di archiviazione una buona conoscenza è importante per utilizzare questa sezione la doppia sezione del prompt dei comandi semplici oppure come amministratore ti permette l'apertura di una finestra in cui potrai inserire comandi di riga o come utente normale oppure come utente con diritti di amministrazione questo secondo caso è necessario in quanto alcune funzioni sono eseguibili solo se è in pieno possesso dei diritti di amministrazione della macchina gestione attività apre una finestra utile per visionare quali processi e applicazioni sono avviati con possibilità di determinarli con un semplice clic del mouse delle colonne in questa sezione evidenziano l'impiego di risorse del pc la cpu la memoria quanto disco rigido impiegato e le risorse di rete altre sezioni prevedono la possibilità di monitorare le prestazioni delle risorse la cronologia delle applicazioni utilizzate quali di essi si avviano all'accensione del pc gli utenti collegati i dettagli delle applicazioni utilizzati e la gestione dei servizi di windows il pannello di controllo avvia la corposa sezione del pannello di controllo appunto del sistema predio dove puoi gestirlo in maniera granulare tutto passa di qui anche se probabilmente col tempo questa sezione migrerà completamente nella sezione impostazioni almeno questa sembra essere la filosofia della microsoft esplora file niente da aggiungere in quanto avvia il programma esplora file per la visualizzazione di file e cartelle cerca apre una finestra con cui potrai eseguire le ricerche all'interno del tuo dispositivo o sul web potrà interagire via tastiera oppure voce tramite un microfono grazie all'assistente vocale cortana esegui è un programma che avvia una piccola finestra dove potrai avviare i programmi semplicemente digitando il loro nome oppure la relativa sigla chiudo disconnetti visualizza le opzioni di alimentazione del computer infatti potrai aver presentata l'opzione per spegnere il pc riavviarlo mandarlo in sospensione oppure disconnettere l'utente tramite il pulsante hash desktop semplicemente permette di visualizzare il desktop se hai molte finestre aperte come potrai vedere ogni sezione presenta molte altre opzioni e per questo ti rimando alle esplicazioni svolte nelle precedenti lezioni trattate per windows 7 o 8.1 in quanto sono praticamente identiche a quelle presenti in windows 10 eccoci qui in zona pratica andiamo a cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante start si apre un menu che come potrai notare è verosimilmente identico a quello di windows 8.1 potrai avere delle piccole differenze come detto in base al dispositivo o all'edizione del sistema operativo ma di norma questo è quello che avrai in visione il pulsante programmi e funzionalità aprirà la sezione dove è possibile visionare i programmi installati e cliccandoci sopra e interagendo con i pulsanti relativi o con il tasto destro potrai disinstallare oppure cambiare le opzioni potrai visualizzare eventuali aggiornamenti installati e disinstallare appunto i programmi oppure attivare e disattivare le opzioni in aggiunta al sistema operativo da questa lista che si presenta potrai togliere i segni di spunta o aggiungerne alcuni se vorrai migliorare, implementare o degradare le prestazioni del sistema operativo chiudiamo la finestra e andiamo a vedere l'altra opzione opzione spegnimento apre la sezione dove è possibile cambiare le impostazioni del risparmio energetico andando a scegliere o la soluzione bilanciata oppure migliorare al massimo le prestazioni compromettendo un po' il consumo di corrente oppure andare in risparmio energetico a fronte di un minor livello di prestazioni qui hai altre opzioni che ti permetteranno di richiedere la password alla riattivazione del sistema operativo se hai un interruttore sul pannello del pc potrai abilitare la funzionalità di questo interruttore se spegnere il computer nel momento in cui si avvia per evitare danni potrai creare una combinazione per risparmio energetico e comunque potrai anche modificare direttamente da questa opzione potrai specificare le impostazioni di disattivazione dello schermo oppure di sospensione ma come abbiamo già visto potrai interagire in questa sezione altra opzione visualizzazione eventi in questa sezione verranno memorizzati tutti gli eventi che man mano accadranno al sistema operativo o ai programmi installati qui una lista che ti permetterà di interagire e essere utile magari nel momento in cui devi eseguire una ricerca guasti la sezione sistema ti permette di dare informazioni di base al sistema operativo qual'edizione, il tipo di processore, quanta memoria RAM, il nome del computer e se appartiene a un gruppo di lavoro e lo stato di attivazione anche qui puoi cambiare eventualmente il product key o cambiare impostazioni andando a visionare le impostazioni avanzate del sistema operativo cosa che già abbiamo visto nei precedenti sistemi operativi gestione dispositivi ti permette di visionare la sezione dove puoi interagire con le periferiche installate nel sistema operativo nel pc e quindi interagire aggiornando i driver dello stesso disattivando o disabilitando la periferica altro pulsante connessione di rete che ti permette di visionare le connessioni di rete del computer e interagendo con il tasto destro sulla stessa potrai abilitare, disabilitarla, rinominarla oppure visionare le proprietà di queste connessioni gestione disco una sezione un po' particolare che ti dà la possibilità di interagire con le periferiche degli hard disk presenti nel sistema operativo fai particolare attenzione perché potresti far danni se agisci con superficialità in quanto potrai formattare, eliminare o ridurre le partizioni e compromettere anche la funzionalità del sistema operativo gestione computer anche qui una sezione abbastanza ampia nella quale potrai in maniera granulare impostare delle pianificazioni, visionare le prestazioni del computer oppure gestire le cartelle condivise o gli utenti connessi al tuo computer quindi anche qui un po' di attenzione quando vai ad agire le doppie sezioni prompt dei comandi e prompt dei comandi come amministratori permettono di aprire due finestre nella quale potrai inserire delle righe di comando o con diritti di amministratore o come utente normali gestione attività è una sezione abbastanza importante perché ti permette di visionare quali sono i programmi attivi in questo momento quanta CPU stanno consumando in maniera parzializzata, quanta memoria, la quantità di disco rigido che viene utilizzato o quanta connessione di rete stanno impiegando altre sezioni sono relative alle prestazioni dell'hardware installato nel tuo computer cronologia applicazioni ti permette di visionare quali sono le applicazioni ultime avviate la sezione avvio ti permette di scegliere se mantenere attivo o disattivare i programmi che si avviano all'accensione del sistema operativo la sezione utenti ti permette di visionare quali sono gli utenti connessi alla tua rete dettaglio, puoi avere il dettaglio dei programmi che sono attivi e quindi visionare se sono in esecuzione, in sospensione e una minima descrizione correlativa memoria e CPU che stanno utilizzando i servizi ti permette di accedere alla sezione dei servizi del sistema operativo per eventualmente visionare se sono attivi, arrestarli oppure avviarli andiamo ancora avanti il pannello di controllo ti permette di entrare nella ampia sezione del pannello di controllo che ormai credo conosci alla perfezione esplora file permette di avviare il programma esplora file cerca invece ti permette di avviare la sezione che vedremo anche in seguito dove potrai tu cercare qualsiasi file all'interno del computer o su internet semplicemente digitando qualcosa nel campo relativo oppure gestirla tramite l'assistente vocale Cortana il pulsante esegui ti permetterà di avviare il programma esegui che grazie a una sigla oppure semplicemente il nome del programma potrai avviare il programma in oggetto in questo caso c'è già preinserito MS Config che è uno degli ultimi programmi che ho avviato da questa sezione chiude e disconnetti ti permette di disconnettere l'utente collegato sospendere il computer, arrestare il sistema operativo o semplicemente riavviarlo il pulsante desktop ti permetterà di visionare il desktop se sono avviati diversi programmi quindi tu hai un desktop pieno di finestre sottolineo che non ho descritto nel dettaglio le funzionalità perché queste le potrai meglio visionare tramite Windows 7 e Windows 8.1 in quanto sono stati spiegati in maniera molto più dettagliata nella prossima lezione vedremo appunto la sezione del pannello di controllo di Windows 10 ora un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima! a presto